Buonasera a tutti, sono Davide Sebastian, siamo di fronte a un mio video a Villa Lais, a Sipicciano, è una mostra a cui tengo molto, è una mia personale che si intitola La memoria dell'acqua, curata da Serena Achilli, ospiti di questa cornice meravigliosa di Villa Lais di Maddalena Mauri, è un luogo incantevole dove ho sviluppato questo progetto, una serie di videoritratti raccolti in giro per il mondo dalla Cina fino in Italia, alle mie spalle uno scatto dal videocontessa, un video girato alla chiesa di San Vittorino a città ducale Rieti, è un'opera sofferta nel senso che ho liberato questa chiesa dai rovi e l'ho riconsegnata alla collettività. Questa chiesa è importante perché in realtà ci ha girato Tarkovsky una scena di nostalgia al suo viaggio in Italia di un poeta russo e io l'ho riscoperta 40 anni dopo attraverso questa polizia, attraverso questo progetto. E poi una serie di videoritratti a Gillo Dorfless, Remo Remotti, Quan Shanxi e i Gao Brothers che è un duo di artisti cinesi. E' una mostra a cui tengo molto perché era tanto tempo che non portavo una personale in Italia, una personale importante e invito tutti a vederla a Sipicciano, Villa Lais fino al 9 di gennaio 2022. Vi aspetto. Ciao, sono Federico Gerretti, sono Villa Lais, sono Villa Lais, in occasione della mostra di Davide Sebastiana, dove curo tutta la parte musicale dei video e la parte audio. Vi invito quindi a Villa Lais a vedere questa mostra per mille motivi. e vi aspetto. Ci ho avuto bellissimo. Buon appetito! Grazie a tutti